15 secondi sul Partito Democratico 15 secondi su... allora Partito Democratico quando è iniziato, non so se vi ricordate che dicevano, noi per fare un partito nuovo, dobbiamo avere ci deve essere una grande occasione noi adesso i tempi storici non è che ci danno qualche grande possibilità anzi ci abbiamo anche contro questi ultimi tempi Beppe Grillo che se la prende con tutti i partiti politici. E' sbagliato il momento storico quindi? No, non è sbagliato il momento storico, però possiamo sfruttare questo problema perché se il Partito Democratico va bene, la gente potrà avere più fiducia, proprio in questo momento di difficoltà. Se però insomma va male... Ti piace come lo stanno costruendo? Ma, insomma adesso gli inizi hanno ingranato male, spero che vadano bene Hai fiducia? Io sono pessimista di natura però, secondo i miei standard va abbastanza bene. Grazie.